Tutti dicono cosa fare e cos'è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro. Ma finché non avrai fiducia in te stesso, la tua non sarà vita. Dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. Ti stupirai di quello che puoi fare e di quanto bene puoi farlo. La spazzatura è tutto ciò che ti separa dalla sola cosa che conta. Questo momento. Ora andate a casa e pensateci. Pensate bene se questa cosa fa per voi o no. Se decidete di no, beh, non dovete vergognarvi.